Lorenza a fine marzo comincia ad avere i primi sintomi e sembrano sintomi da Covid. Però pensa che forse è stanca per il troppo lavoro, non ci fa caso. Il primo giorno di aprile si rende conto che c'è qualcosa che non va. La febbre non scende e chiama il suo medico per un consulto, chiede un tampone. Il medico le risponde, testuale, non sei un politico, non sei un calciatore e vive in Lombardia. Quindi niente tampone. Il giorno dopo riesce a mettersi in contatto con il 118. I sanitari fanno una diagnosi telefonica e le dicono che ha tutti i requisiti per essere ricoverata in ospedale. Sono, ve lo ricordate, i giorni peggiori della pandemia, quelli in cui gli ospedali Lombardi esplodevano. Lorenza era terrorizzata. Erano in tempo in cui gli ospedali Lombardi non erano sicuramente dei luoghi considerati sicuri e in più lei vive con la figlia, che sarebbe rimasta sola. Si è curata, dice cortisone e lexotan, lexotan per dormire. Ora non prende più niente. È passato parecchio tempo. Lorenza ha ancora la febbre. Decide di aspettare. Ieri ha scritto una testimonianza e dice Oggi telefono per l'ennesima volta all'ATS per chiedere quanto tempo ancora dovrò aspettare per poter avere un tampone, visto che ormai è un mese che sono a casa con i sintomi da Covid, senza una cura specifica, e che il mio medico ha inoltrato la richiesta per farmi fare il tampone esattamente una settimana fa. Ebbene, trovo un'operatrice gentile disponibile e ottengo queste tre interessanti, strambiglianti, sconcertanti risposte. Uno, le dicono a Lorenza, i tempi per l'esecuzione del tampone dal momento in cui il medico di base ne fa richiesta sono mediamente di almeno due settimane. Due settimane, nel suo caso, un mese dopo aver avuto i primi sintomi. In caso di esito positivo, le dico del tampone, non è previsto che il tampone venga somministrato ai familiari conviventi. Ma come? Ma mica l'Istituto Superiore della Sanità ci ha detto che i focolai domestici sono le cose da tenere a bada? Tre, sono state, pare, finalmente autorizzati test sierologici, sempre su richiesta del medico di base, ma questi possono essere richiesti per due specifiche categorie. Persone entrate in contatto con i pazienti positivi accertati, ma sarebbe da capire come vengono accertati, visto che i sintomatici non vengono tamponati. Oppure, le dicono, per persone con sintomi sospetti. Quindi, se ci pensate, esattamente lei, Lorenza, che ne avrebbe diritto. Ma chi vive con lei e chi è entrato in contatto con lei, fino a quando non sarà accertata come positiva, non potrà, evidentemente, nemmeno fare il test sierologico. Schive Lorenza. Ora, io non ho veramente parole e nemmeno fiato a dire il vero date le mie condizioni per raggiungere altro. Lascio ai giornalisti, politici e scienziati, la richiesta di verificare, approfondire e denunciare. C'è un particolare interessante. Tutto questo, tutta questa storia, avviene in Lombardia, nella regione che spinge per uscire e per tornare alla normalità. E mentre noi discutiamo di congiunti, di familiari, di parentele e di tutto il resto, ecco, intanto si continuano a non fare i tamponi. Buon giovedì. Buon giovedì.